Amici di Android Blog, stiamo girando questo video con la fotocamera di Ecore Ocean XL proviamo subito un controluce, vediamo poi l'adattamento alle luci ruotiamo verso destra e verso sinistra per vedere l'adattamento della fotocamera come di consueto camminiamo verso il nostro vaso di fiori, avviciniamoci non c'è il fuoco automatico ma bisogna tappare sullo schermo per mettere a fuoco adesso spostiamoci e ritappiamo sullo schermo per mettere a fuoco un piano differente ruotiamo e tentiamo uno zoom, zoom presente anche a questa risoluzione massima fino a 4x il video è girato in full HD da Ecore Ocean XL